Cari amici ben ritrovati, durante il weekend di sabato 20 e domenica 21 ottobre l'alta pressione toccherà il suo momento di massima vitalità quando risulterà particolarmente strutturato alle quote superiori. Una breve ondata di calore interesserà l'Italia con temperature estive, specie su Sardegna e Sicilia. Si tratterà probabilmente dell'ultimo innalzamento di temperature al centro-sud. Ma vediamo cosa ci attende per oggi. Ancora nubi sparsi un po' su tutte le regioni, con sprazzi di sole, specie sulle coste ligure. Qualche lieve pioggia potrebbe ancora essere presente, ma solo a ridosso dei rilievi occidentali. Ampie schierite sono invece previste sulle pianure, dove potrà comunque essere presente qualche banco di nebbia. Ed anche al centro e solo su alcune zone sarà possibile qualche lieve nuolosità, per il resto tempo nel complesso buono. Mentre al sud, e particolarmente sulla nostra provincia, torna il bel tempo, con una giornata serena ed ampiamente soleggiata. Temperature nuova ripresa, con valori di 27 gradi le massime e minimi di 19. I venti di moderata intensità soffieranno da sud sud-est e da sud di debole intensità nella sera, ed il mare nello stretto di Messina sarà ancora poco mosso. Sul versante tirenico, giornata serena. Le temperature anche qui in ripresa si porteranno sui 27 gradi diurni e minimi di 19 nella notte. I venti deboli soffieranno da est-nord-est e da est-sud-est nella sera, ed il martireno sarà poco mosso. Sul versante ionica invece, lieve nuvolosità. Le temperature si manterranno sui 24 gradi diurni e minimi di 17 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-est e da sud-sud-est nella sera, ed il marionio sarà poco mosso. Nella giornata di sabato 20 ottobre, poche variazioni meteoclimatiche sull'Italia, protetta ancora dall'alta pressione africana, uggioso un po' su alcune zone del nord e del centro per nebbie e nubi sparse. Per il resto, tanto sole e temperature nuovamente sopra la media climatica del periodo. Al sud persistono condizioni di bel tempo, con clima estivo su gran parte del territorio. Sulla nostra provincia cielo sereno e temperature comprese tra 29 e 18 gradi. I venti deboli soffieranno da sud-sud-est ed i mari saranno poco mosso sia il tirreno che lo ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.